weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiu derone daie weh bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xiu der e ragazzi lo vedete dai non ditemi che non lo vedete raga guardate cosa spunta dalla schiena di cuore nero yes ce l'abbiamo fatta raga cuore nero finalmente completato per quanto riguarda i vari stili ragazzi abbiamo sbloccato il backpack ammutinamento ve lo voglio fare vedere però ovviamente leggendario ed eccolo qua ragazzi meraviglioso non vedevo l'ora di avercelo adesso è tutta questione di completare le sfide settimanali per poterne sbloccare i colori della casacca quindi ragazzi anche per questa season la prima delle due skin la completiamo vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale codice creator xiu derone noi ci vediamo presto ciao 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 ciao